Cioè, ma mica siamo... No, due anzi. Eh, figura, non siamo mica così poveretti qua, roba seria professionale. No, noi siamo vecchia scuola. È a 0,31? No, 0,42 deve essere, come diceva il mitico Bosis. Se è un po' umido, 0,42. Se è secco, 0,45. Oh, così mi ha detto l'italiano. Con la camera d'aria, però... Ascolta, per i tempi là, c'avevi anche quella storia lì. Io ho un'occhiata col manometro e la... Ma che cazzo me ne fregavano d'ascolta? Credo che sia compatibile col manometro. Scappa, vedi il manometro e dici... Quella gomma lì ha fatto due volte San Lucio, è bucato a San Lucio e suo ancora adesso con la stringa da parte. Figura di te. Poi ha fatto dal CER, ha fatto di tutto. Sarà il caso che la cambio, però, eh. Però, vedi, piloti giusti prima di fare le garette e le prove. Anche il Pietro ieri era controllata. Ieri è controllata la pressione. 0,35 davanti e 0,45 dietro. Se avevi la gomma. Pure. Pompare, pompare! Oh, non c'è qua più nessuno. Sono già partiti tutti. Non c'è più nessuno. Sono andati a fare le altre cinema. Sono già giù sotto, le zone già pronte. Pronte, manca tutte le frecce, no? Quante zone? E, eh, cartellino 555, eh. Cazzo, abbiamo tirato fuori i cartellini muffi che avevamo giù sotto dei tempi, eh. Oh, che roba seria qua, eh. Chissimi. Vintage non ce li ha nessuno, i cartellini ancora della Beta. Non c'è i cartellini muffanti. Quelli non... Potrei andare a cercare da qualche parte. Il zio seve è facile che qualcuno ce l'ha a casa. Si cambiano... Piloti si cambiano... Ma perché usi due paia di pantaloncini? Due paia tieni, uno di scorta. No, ha tirato via i pantaloncini corti, c'è stato un altro paio di pantaloncini corti. Ah, e adesso sono io che non sono attento. Non c'è qua più nessuno. E prepara le telecamere che oggi c'è da ridere. Già pronta. Non vale fare le zone prima. E come no, cazzo. Cazzo, per fare due zone hanno consumato la bindella per farne otto. A me qualche vantaggio me lo devi dare. Ti do il vantaggio che ti do una telecamera sempre fissa dietro. Oh, cazzo, siamo a posto. E non lo so, cazzo, rola. La dica arrivava. Qua stanno facendo le cose serie. Abbiamo un po' di trofei, questo non lo sapevo. Abbiamo anche le coppie.